Allia Collection è un sistema di luce ispirato alla gestualità dell'orchestra e all'armonia degli accordi musicali. Vuole essere una luce, l'equinate d'accento suscitano un'emozione, racchiusa in una struttura, la coegregazione trasformi chiunque in direttore d'orchestra. All'interno dell'intera collezione è una trasposizione dei quattro tempi musicali ed infatti la composizione dei moduli viene dettata proprio dei tempi che utilizza l'orchestratore per impondere armonia, generando così un ritmo che deriventa il filet rouge della collezione. L'obiettivo è stato proprio quello di realizzare oggetti luminosi, prendendo in mano la bellezza passata per guardarla con gli occhi di oggi, creando così i progetti del futuro, innovando non solo a livello tecnologico ma anche culturale. Infatti disegnare la luce non significa solo donare una forma o capire il volume, ma anche indagare gli aspetti più tecnici e quelli di performance. Per questo ogni lampada della collezione ha due illuminazioni, una d'ambiente per creare atmosfere piacevoli senza mai abballare l'utente e una luce d'accento invece che genera i punti di interesse, adatta quindi anche l'ambiente più contract.